www.telebari.it Il Stato della Salute nei Paesi membri, presente il sottosegretario della Salute, Sandra Zampa. Se le medie italiane sono per molti indicatori migliori rispetto alle altre dell'Unione Europea, ciò che colpisce il divario interno tra le diverse regioni. Per esempio se si guarda la speranza di vita media in Italia è di due anni superiore alla media europea, ma in Campania è di tre anni inferiore rispetto per esempio al Trentino Alto Adige. Un tema è quello delle disuguaglianze tra regioni più volte sollevato anche dalla Puglia, che a parità di popolazione viene penalizzata nel riparto delle risorse rispetto a regioni come l'Emilia Romagna e la Toscana. Un aspetto su cui non si interverrà nell'immediato, ma come il sottosegretario di Stato alla Salute, Sandra Zampa, tiene a precisare, è comunque sotto analisi. Attualmente sono 33 gli elementi con cui vengono misurati i livelli essenziali di assistenza e per cui una regione viene messa, ci sono quelle di categoria A, quelle virtuose e quelle non virtuose. Voi avete visto però poco fa che non c'è solo la Puglia, tra virgolette, c'è Bolzano per esempio che ha un problema di risorse. Bisogna anche nel complesso e l'aumento dei criteri per il LEA che passano da 33 che sono oggi a 88, vuol dire che ci sarà la possibilità anche per il centro, quindi per il Ministero, di fare verifiche, l'Agenas in particolare, di fare verifiche molto più puntuali e anche di intervenire perché se non saranno rispettati almeno due dei comparti dei LEA si potrà intervenire e accompagnare la regione, ovviamente anche rivedendo la questione delle risorse. L'auto del sindaco di Toritto, Pasquale Regina, è stata distrutta dalle fiamme la scorsa notte in un incendio che stando a una prima ricostruzione dei fatti sarebbe inequivocabilmente di natura dolosa. L'episodio è avvenuto intorno a 1.30 in Via della Vittoria e per domani le fiamme si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco. Ancora un grave episodio ai danni di un amministratore comunale pugliese, dice il presidente di Anci Puglia, Domenico Vitto, in una nota. In attesa che le forze dell'ordine facciano chiarezza, esprimiamo vicinanza e sostegno alla famiglia del sindaco Regina e invitiamo la comunità di Toritto ad unirsi al primo cittadino e all'amministrazione comunale per respingere qualunque tentativo di intimidazione. Maxi operazione antidroga della polizia ha sgominato un'associazione criminale italo-albanese. 22 gli arresti, l'indagine dall'omicidio di Francesco Ferrante, ucciso a Trani 5 anni fa. Cerignola e Foggia, Andrea e Barletta, due aree geografiche ben distinte gestite da due organizzazioni criminali tra loro collegate, entrambe dedite al traffico internazionale di stupefacenti. 22 gli arresti della polizia nella maxi operazione antidroga che ha sgominato una organizzazione criminale transnazionale italo-albanese e un'altra attiva tra Andrea e Cerignola. I destinatari dell'ordinanza cautelare disponevano anche di armi potenti pronti all'uso. A gestire l'importazione della droga dall'Olanda, Germania e Albania, era un cittadino albanese che con l'aiuto di connazionali residenti nel nord Europa forniva alle organizzazioni criminali italiane cocaina ed eroina di ottima qualità, oltre a grossi quantitativi di marijuana e hashish. Lo stupefacente veniva importato sul territorio nazionale da corrieri che nascondevano i carichi nei doppi fondi installati sulle auto. Foggia, la centrale operativa dalla quale poi lo stupefacente veniva smistato a Cerignola, San Salvo, Pescara e Barletta. Altri brokers provvedevano a cedere le partite di droga ai vari acquirenti provenienti da altre regioni d'Italia. Nel corso delle indagini sono stati registrati contrasti con altre organizzazioni criminali operanti nel Foggiano bloccate sul nascere dall'attività di polizia giudiziaria. Numerosi riscontri investigativi, 20 arresti in flagranza di reato e il sequestro di oltre 440 kg di stupefacente tra cocaina, eroina, hashish e marijuana. La maggior parte delle attività delle organizzazioni malavitose si fondano principalmente sui proventi delle sostanze stupefacenti. È chiaro che il contrasto al traffico internazionale di droga è il presupposto per un adeguato e serio contrasto anche al potere delle associazioni mafiose al di là di quelli che sono i risultati di questa specifica indagine, delle associazioni mafiose che sono stanziali sul nostro territorio. Elezioni regionali dopo le primarie del centro-sinistra. Ieri abbiamo dedicato il nostro talk alla situazione negli altri schieramenti. Ancora nessuna decisione sul candidato di centro-destra sul nome di Raffaele Fitto. È stato Fabio Romito a chiarire la posizione della Lega. Sentiamo. Queste questioni, quelle regionali, sono legate a vicende che sono assolutamente connesse fra di loro e attengono all'intero quadro nazionale, non soltanto a quello pugliese. Però è del tutto evidente che noi abbiamo assolutamente rivendicato più volte l'idea di poter esprimere un candidato presidente che sia della Lega. Ogni volta che Matteo Salvini è venuto in Puglia sono stati bagni di folla. L'ultima al Teatro Team, non credo allo Spazio 7 della Fiera del Levante, non credo sia mai stato così pieno nella storia politica della nostra regione. La classe dirigente non ci manca, la voglia di cambiare questa regione non ci manca e quindi credo che più che di impasse si tratti semplicemente di una riflessione che stanno facendo a Roma, che avrà un suo esito subito dopo le elezioni regionali dell'Emilia-Romagna e rispetto a questo io sono convinto che sia un'ulteriore garanzia dell'unità del centro-destra. Due uomini di 33 e 45 anni sono stati arrestati a Bari per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Due sono stati sorpresi dai carabinieri mentre cedevano della droga ad alcuni acquirenti in via Sagariga-Visconti. Il loro deposito personale era rappresentato da una cabina elettrica presente sulla via all'interno della cabina. Infatti i militari hanno trovato e sequestrato sei dosi di cocaina e due dosi di eroina mentre addosso a uno dei pusher è stata rinvenuta la somma contante di 230 euro ritenuta il provento dell'illecita attività di spaccio. Per entrambi sono scattati gli arresti domiciliari. Micro mobilità elettrica, da questa mattina tecnici comunali sono al lavoro per l'installazione della segnaletica verticale. L'ultimo step prima della partenza ufficiale del piano di viabilità per la mobilità elettrica è in corso di definizione. Da questa mattina infatti su tutte le strade in ingresso della città tecnici comunali sono impegnati nell'installazione della segnaletica verticale per tutti coloro che utilizzano monopattini elettrici, oramai equiparati alle biciclette, overboard e mezzi affini. Si parte quindi, i tempi sono stati rispettati grazie anche a tutti gli accorgimenti già messi in atto da Palazzo di Città per la sperimentazione promossa dal Ministero dei Trasporti per regolamentare la circolazione dei dispositivi di micromobilità. Il piano è stato messo a punto per garantire spostamenti in sicurezza e collegamenti tra alcuni punti e luoghi più frequentati della città. Di fatto è stata prevista l'istituzione di una serie di zone 30 e zone 20 dove i mezzi elettrici potranno circolare. I monopattini, così come le bici del resto, possono circolare su tutte le piste ciclabili e su tutte le strade urbane prive di ciclabili. Possono essere condotte anche da minorenni e non è l'obbligatorio l'uso di mezzi di protezione come il casco. Resta confermata la scelta dell'amministrazione comunale quindi di proseguire con l'istituzione di vaste zone 30 e 20 nel centro cittadino per introdurre soluzioni di traffic calming, favorire azioni di mobilità dolce e garantire ai cittadini una maggiore vivibilità e fruizione dello spazio pubblico. La cosiddetta liberazione dei monopattini elettrici, aveva infatti detto il sindaco De Caro, da un lato agevola gli spostamenti e l'adozione di modelli virtuosi rispetto alle politiche di mobilità sostenibile, dall'altro però richiede comportamenti irresponsabili per salvaguardare la sicurezza propria e degli altri utenti della strada. Ricordiamo che la presenza simultanea sulla careggiata di veicoli leggerissimi come i monopattini elettrici ed insieme di autoveicoli, bus e mezzi pesanti introduce situazioni di pericolo potenziale, specie, nelle strade ad alto scorrimento e sui cavalcavi urbani. Questi pericoli possono accentuarsi se i conducenti dei monopattini elettrici hanno poca esperienza di guida o adottano comportamenti imprudenti. Dal 6 al 9 febbraio torna in Engadina a St. Moritz Nomad la fiera per collezionisti del design. I dettagli nell'intervista a Giorgio Pace, co-founder Nomad. La fiera per il suo quarto anno consecutivo, una formula che noi qui ancora non conosciamo ma che speriamo arriverà presto. Di cosa si tratta? La Nomad è un nuovo formato di organizzare una fiera. Come sapete ci sono oggi fiere tutte le settimane nel mondo e quello che noi invece abbiamo creato è un nuovo formato in una casa privata. Quindi noi cerchiamo delle case importanti nel mondo che sono architettonicamente e storicamente interessanti. Abbiamo cominciato con Monte Carlo, poi St. Moritz, Venezia e Nomad succede due o tre volte l'anno. Ogni volta che si affittano queste case vengono svuotate dei loro arredi e si invitano delle gallerie sia di arte contemporanea che di design a curare delle stanze. È una formula che è rivolta ai collezionisti, ma collezionismo di altissimo livello. Sì, sono collezionisti internazionali che arrivano ormai da tutto il mondo. Le gallerie sono anche di altissimo livello di tutto il mondo quindi le gallerie invitano i loro clienti ma anche Nomad ha una struttura e un database che invita circa 25.000 persone. Per chi volesse informarsi è la data e dove si svolgerà? Allora c'è il sito Nomad Circle, il prossimo sarà dal 6 al 9 febbraio a St. Moritz e chi vuole partecipare deve registrarsi e dare delle informazioni. Domenica 19 gennaio all'inizio dello spettacolo delle ore 16 del film 18 regali le attrici Vittoria Puccini e Benedetta Porcaroli i protagonisti della pellicola saranno ospiti in sala al Multicinema Galleria di Bari per salutare il pubblico. Il film del regista Francesco Amato è ispirato alla storia vera di Elisa Girotto la donna che ha commosso il mondo lasciando 18 regali per i futuri compleanni della figlia quando ha scoperto di avere poco tempo per vederla crescere. L'informazione termina qui, vi ricordo che per notizie e aggiornamenti potete consultare il nostro sito internet www.telebari.it Grazie per averci seguito, a più tardi con l'informazione di Telebari. Il meteo è offerto da SGServiceSud.it Ben trovati a un aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo dopo molti giorni di alta pressione, anzi settimane l'Italia ritornerà a essere sede di zone di bassa pressione e una prima perturbazione si formerà di fatti nel corso di sabato e agirà sul nord-est, regioni centrali, anche basso tirreno con precipitazioni. Ma guardate come poi un nuovo affondo atlantico sul Mediterraneo occidentale causerà una nuova zona depressionaria che impegnerà in avvio della settimana probabilmente la Sardegna. Andiamo a vedere quindi la situazione per la nostra penisola pioggia in mattinata tra Lombardia e Liguria in estensione poi a tutte le Venezia, Emilia Romagna e poi anche parte del centro-sud, specie il lato tirrenico. Le nevicate sulle Alpi di nord-est anche sotto i mille metri di quota ma quote medio-basse anche sull'Appennino Emiliano. Nel dettaglio la situazione per quanto riguarda l'Italia apriamo gli ombrelli sulle regioni settentrionali e gran parte del centro-Italia con rapidi piovaschi qualcosa in arrivo anche per il basso tirreno. Il clima ovviamente ventoso. Tutti i dettagli scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo. Il meteo è offerto da SGServiceSud.it Grazie a tutti.